Per chi viaggia in autobus sono giorni di caos. Dopo i tagli delle corse dell'azienda Trasporti Molisana aumentano i disagi segnalati da studenti, lavoratori pendolari e da tutti quei cittadini che non possono più raggiungere in pullman servizi importanti e coincidenze tra i paesi e i centri più grandi, già avviate raccolte di firme, mentre il sindaco di Termoli, Antonio Di Brino e altri amministratori scrivono alla regione, al prefetto e all'ATM chiedendo di mettere in mano una situazione ritenuta inaccettabile. Questi sono servizi aggiuntivi che ovviamente io eredito, che non sono all'interno del piano e che le aziende fanno puntando ovviamente sullo sbigliettamento. È un po' bizzarro che improvvisamente questa cosa tutta insieme sia affrontata perché è ovvio che uno immagina che alcune corse possano essere convenienti e altre non convengano, ma che tutte insieme siano soppresse è una cosa fortemente curiosa. L'assessore regionale ai trasporti assicura l'impegno per trovare una soluzione. Lunedì è in programma un incontro in prefettura. Sono delle altre compagnie di linee, ovviamente su gomma, che hanno dato la disponibilità a coprire una parte di queste tratte, soprattutto quelle che come vede sono impegnate anche dagli studenti e questa è anche un'altra bizzarria perché è ovvio che queste dovrebbero stare all'interno del piano dei servizi e non si capisce come mai sono al di fuori di questo piano. E contemporaneamente quindi una buona parte, 60-70% di tutte queste corse le copriremo così. L'assessore Nagni evidenzia anche un altro aspetto e la necessità di modificare il piano dei servizi minimi perché ha affermato. Da una parte alcune corse come lei ha detto sono sotto l'osservazione della gente che vive in questo territorio perché sono utili, quindi vuol dire che vanno piene. Nel piano dei servizi minimi ci sono corse che vanno solo con l'autista.